Devo salutare un amico che ci segue, dunque lui è anconetano però se n'è andato da qui, è andato in Romagna e vabbè è beato lui però ogni tanto insomma per questa festività ritorna, sto parlando di Alessandro, ciao Ale un saluto buona domenica anche a te, se vuoi salutare anche tu visto che sei così a far nulla Ciao Alessandro, è stato bello Come? Ci sono quelle persone che parlano, è stato ieri una giornata bellissima Come quando fanno il doppiaggio, no? Delle persone che parlano, magari, dai di qualcosa in inglese Eh, no, I know something that, eh, you should know something that I have to say Ecco, sì, sì, abbiamo comunicato, ok I try to understand what you say, but I don't understand what you want to say Basta, basta, se no ci fanno chiudere la trasmissione Abbiamo ancora pochi minuti da passare insieme a voi amici a casa Buona domenica in questo 3 maggio 2015 Alessandro mi ha già bacchettato E non ho detto il cognome Alessandro Blasi, va bene, siamo a posto Fra un cattolica in Irancona a posto Così abbiamo, ci siamo tolti il dente Adesso strucchiamo il...